La merenda è senza dubbio il momento che i bambini aspettano di più durante la giornata. Gli adulti però devono saper scegliere con attenzione cosa proporgli. Troppo spesso, spiega la nutrizionista Sara Bartolaccini, i nostri piccoli mangiano a metà pomeriggio e a metà mattina alimenti troppo calorici, come merendine confezionate, focacce, pizzette e patatine. Negli ultimi anni, insomma, i prodotti già pronti hanno sostituito le merende più sane, come frutta spremute e, perché no, le golose torte fatte in casa con ingredienti controllati e genuini. Una brutta abitudine, prosegue la nutrizionista, che rischia di consolidarsi ancora di più in questi mesi in cui bambini e ragazzi restano spesso a casa per seguire le lezioni a distanza e durante i quali oltretutto non possono fare sport. In questo momento è importantissimo che i genitori e nonni aiutino gli studenti ad affrontare il lockdown in maniera positiva, soprattutto dando loro spuntini e merende sane, quindi sia frutta fresca, soprattutto, ad esempio, un ottimo spuntino di metà mattina e una spremuta di agrumi, visto che sono di stagione, ricchi di vitamina C. Yogurt, yogurt, mi raccomando, magro, dove eventualmente aggiungete voi della frutta e ottimo spuntino è anche la frutta secca. La merenda del pomeriggio potrebbe essere con un tè e una fetta di torta fatta in casa. Evitiamo di acquistare prodotti confezionati molto calorici, ricchi di zucchero, ma soprattutto di grassi saturi, come ad esempio patatine, merende confezionate, pop corn.